Milt, il tuo nuovo libro si chiama La Fine del Mondo. Ora, ci puoi dire quando verrà o dobbiamo comprare il libro? Beh, io predico che il mondo finirà allo scoccare di mezzanotte della fine dell'anno. Quest'anno? Mhm. Dico, non è che ti lasci un gran margine, vero? Dal punto di vista delle vendite, il tuo libro è uscito adesso e non vedrai i diritti di un'edizione economica per almeno un anno. E passerà almeno un altro anno prima di sapere se ne faranno un telefilm, uno sceneggiato, una saga in cento puntate. No, lo dico per fare l'avvocato del diavolo, sai. Insomma, non avresti dovuto dire «Eh, il mondo finirà nel 1992!» O meglio, ancora nel 1994! Questo non è un mezzuccio per fare dei soldi, va bene? Io ho una forte convinzione medianica che il mondo finirà con la fine dell'anno. Beh, per il tuo bene spero che sia vero. Grazie. Ok, ma forse l'altro mio ospite non è d'accordo con te. E lei, sbaglio o avevi in mente un'altra data? Secondo la mia fonte, la fine del mondo arriverà il 14 di febbraio dell'anno 2017. Per San Valentino. Mazzata. Per San Valentino.